Caro Romolo, il mio desiderio più grande è giocare nella Roma femminile. Sono innamorata di questa squadra da sempre e il mio sogno è diventare una calciatrice. Amo il calcio e fare di tutto per poter fare anche una sola partita con la moglie della Roma. Sono Monica Schiavo, ho 13 anni, quasi 14. Vado a scuola a Monteverde, faccio la terza media, quest'anno ho l'esame. Abbiamo dovuto preparare un elaborato con un argomento. Avevo proposto Pelè e il calcio e me l'hanno sistemato e porto quello. Pelè è il mio idolo e mi piace molto e sono appassionata. Questo problema che il calcio è damaschi e c'è sempre stato, però già da piccoletta mi piaceva. Sempre stato tifoso della Roma e poi ho iniziato ad andare allo stadio. Ormai quasi tutte quante le squadre italiane hanno anche la femminile come altre squadre estere. Forse a settembre mi iscrivo a scuola a calcio. Tipo il pomeriggio vado con i miei amici al campetto di scuola e giochiamo a calcio. Di solito non mi passano sempre la palla perché sono femmina, però mi fanno integrare. Ogni tanto faccio dei gol che neanche loro si spiegano, però non mi va bene. Ora faccio gli esami, speriamo vada bene. Poi andiamo in Molise, che è il paese di mamma. L'ho stato con i miei amici, anche là gioco a calcio perché abbiamo il campetto nel paese. L'hanno fatto da poco, infatti tutta l'estate scorsa siamo stati là tutti i giorni. dalle tre e mezza fino alle otto a giocare là, facendo tornei, giocando. Grazie, grazie. Viva il luco! Ciao Monica, il tuo in bocca al lupo ci ha portato fortuna e ora torniamo a Roma con la medaglia. Grazie Monica! Un bacio! Grazie a tutti!